eccoci qui ragazzi buonasera a tutti voi buon pomeriggio buona domenica abbiamo appena terminato la live con nick storie giallorosse e michi yellow red poi sono intervenuti anche andrea erdipa giogni e paolo se non l'avete vista vi invito a andarla a vedere sul canale di nick niente la roma oggi coglie la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella di firenze da continuità dei risultati porta a casa tre punti pesantissimi in una partita che oggi era veramente veramente complicata un po perché il genova di solito contro di noi fa sempre delle partite specialmente all'olimpico di grande carattere infatti anche oggi insomma ci ha dato un po di filo da torcere un po perché comunque la roma si presentava questa domenica con un massiccio turnovere visto che comunque al centrocampo hanno giocato diavara ha giocato petro ha giocato gli sciarawi ha giocato bruno peres al posto di spinazzola avevamo veramente parecchie assenze e nonostante questo la roma ha fornito una prestazione direi discreta non siamo stati magari decisivi non siamo stati ma non abbiamo offerto un gioco così convinto come in altre occasioni però ci siamo portati a casa i tre punti questo era l'importante la roma è scesa in campo con una squadra abbastanza inedita paolo opens in porta difesa tre dove oggi ha giganteggiato smalling che è partito dall'inizio lo faceva da un mese penso e si vede benissimo ragazzi che quando c'è smalling in difesa è tutta un'altra storia sia per dal punto di vista tecnico tattico ma di tranquillità che trasmette anche ai suoi compagni specialmente a mancini a cristante mancini che oggi ha fatto una buonissima partita ha avuto il merito di fare il gol che ce l'ha fatto porta a casa i tre punti anche se poi ha preso il solito cartellino giallo evitabile anche se l'arbitro secondo me li ha esagerato cristante ha fatto la sua onesta partita paolo opens ha fatto un paio di parate normale amministrazione anche se poi come sempre ha sbagliato un paio di rilanci ma quello nel suo dna purtroppo al centrocampo pellegrini e diavarà diavarà si conferma un ottimo un ottimo rincalzo per l'assenza di veredù sta giocando veramente bene quindi c'è serenità per questo fatto perché non giocare senza veredù per un mese e mese e mezzo per noi diventa veramente difficile se non abbiamo un calciatore lì in mezzo che può prendere le retini e diciamo che diavarà si sta rivelando veramente un giocatore utile da questo punto di vista pellegrini a corrente alternata due tiri veramente pessimi uno al primo tempo una ripresa un po troppo lento lezioso come al solito forse ha giocato meglio il primo tempo che il secondo però diciamo che ha fornito una prestazione decente diciamo petro tornava dal primo minuto e ha fatto una discreta prestazione si vede in campo la sua presenza dal punto di vista più che altro tecnico bruno peres ragazzi è quello che è partita sufficiente ma niente di che dall'altra parte casrup sono un paio di partite che gioca col freno tirato anche se poi a firenze è stato decisivo subentrando oggi ha fatto una partita più che altro di contenimento ha spinto poco dall'altra parte il sharawi ha fornito una prestazione insomma alta allenante si vede ragazzi che il calciatore deve ancora ritrovare la forma ideale comunque giocando e facendo comunque più partite sicuramente migliorerà ma io ragazzi invece l'ho visto veramente male oggi è vero che non gli sono arrivate tante palle però quelle che gli sono arrivate ha sbagliato praticamente tutto stop dribbling inserimento è un calciatore chiaro che non può fare la differenza come la fazzeco è un calciatore che non si può pretendere che faccia ventico a campionato è una discreta riserva per il centravanti titolare che hai per cui è chiaro che non ci si può aspettare che migliora faccia la migliora faccia la differenza tutte le partite è chiaro che la roma oggi scendeva in campo senza spinazzola senza avere tu senza migliora senza migliora senza zagnolo senza zego senza lo stesso villare che ha giocato quasi tutte le partite non era semplice contro questo genova che da quando è stato preso in mano da ballardini insomma ha cambiato decisamente per la una squadra molto più corta più compatta forte fisicamente oggi non ha sicuramente dato troppi pensieri alla roma anche se oggi la roma è stata lenta ragazzi poco propositiva molto lenta nelle uscite lenta centrocampo lenta nelle ripartenze alcune troppi errori di appoggio anche oggi di impostazione palle perse in maniera stupida e poi nelle occasioni in cui siamo andati avanti in superiore da numeri non abbiamo sfruttato al meglio gli spazi il gol viene da un calcio d'ango di pellerini e colpo di testa di mancini dentro l'aria per cui era una partita veramente complicata tre punti veramente pesanti portati a casa oggi nell'attesa insomma il mira sta vincendo 2 a 0 a verona ieri la lazio di vento sabato la lazio 3 a 1 ci sarà napoli bologna in serata domani inter atalanta che è la partita che ci interessa perché se l'inter dovesse vincere ci ritroveremo nuovamente al quarto posto da soli con un punto di vantaggio sui bergamaschi vorrebbe dire tanta roba note anche sull'arbitraggio che oggi non mi è piaciuto per niente ma assolutamente perché nei primi dieci minuti ci sono stati tre falli pesanti di giocatori del genova il primo a forbice di strott ma che meritava l'ammunizione tutta la vita e non è stato ammunito e sarebbe stato espulso nel secondo tempo visto che poi l'ammunizione la presa e due interventi quei comiti alti su mayoral e bruno peres che in tutta la vita devono essere sanzionati con l'ammunizione ma fabbri oggi se vedi che i cartellini nel primo tempo ce l'ha dimenticato in tasca anche nella ripresa delle decisioni non mi sono piaciute vedi l'ammunizione a mancini che era un fallo normalissimo o altre decisioni a me che non riesco a capire questi arbitri non è che io voglio piangere sempre sugli arbitri per carità di dio però io non riesco a capire perché questi arbitri poi con la roma hanno sempre degli atteggiamenti così ambigui e poi vorrei dare un consiglio ai giocatori della roma perché non li vedo mai protestare non li vedo mai andare intorno all'arbitro a chiedere spiegazioni su decisioni che possono essere prese in maniera errata noi accettiamo le decisioni degli arbitri a prescindere senza protestare senza niente bisogna anche farle queste cose perché specialmente nel capitano che deve andare lì e chiedere spiegazioni su delle decisioni che non convincono perché altrimenti gli arbitri poi si sentono liberi comunque di arbitrare a modo loro senza avere prestazioni invece la pressione sull'albero in maniera educata tocca sempre darla ripeto ragazzi oggi è una partita complicata abbiamo portato a casa i tre punti continuiamo la nostra rincorsa champions pur con tutte le difficoltà gli infortuni che abbiamo e va bene secondo me va bene così ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci sentiamo presto per commentare nuove partite della roma